Come in ogni Tg torna in coda l'appuntamento con le previsioni meteo. Fine settimana all'insegna del gran caldo dell'AFA, 38 gradi della temperatura massima registrati a Foggia, che si conferma la città più calda d'Italia, 22 per la temperatura minima, un campo di alta pressione abbraccia l'intera Puglia, con caldo solo ovunque e in particolar modo sul tavoliere. Temperature che continuano peraltro a salire col passare delle ore. Mi fermo qui per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.